Una posizione di rigore istituzionale, quella portata avanti dai nostri microfoni dal Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, sull'utilità o meno della consultazione referendaria del prossimo 17 aprile. Non ci sono concessioni in mare entro le 12 miglia per la Basilicata, ha dichiarato Pittella, confermando l'inutilità della consultazione, ma un rappresentante delle istituzioni non può promuovere tra i cittadini l'assenzionismo. Guardi, io andrò a votare il 17 aprile, per coerenza rispetto ad un percorso avviato a Policoro, per quando ritengo questo referendum sul quesito ampiamente superato e non riguardante sicuramente la Basilicata. Ma c'è un tratto che distingue un Presidente di Regione che è quello di dialogo col governo e anche di esercizio democratico che oggettivamente una occasione come il referendum mette in campo. Che sono espressione delle istituzioni difficilmente possano attestarsi sull'invito al non voto o all'astensione. Ma questo referendum non interessa il quesito unico rimasto in piedi, non interessa assolutamente la nostra Regione. Per cui i nostri mari sono esenti da pericoli di trivellazioni, per assenza di istanze precedenti, ma anche successive, che riguardano le 12 miglia. Io sono stato uno di quelli che a Policoro ha introdotto il tema del ricorso referendario. Qualora il Governo nazionale non avesse provveduto nel dialogo con le Regioni a trovare sintesi o a fare sintesi rispetto alle esigenze poste dalle Regioni. Devo dire la verità che sui sei quesiti referendari il Governo nazionale, ma non solo su quelli, ha dato le risposte. E sulla volontà del PD di promuovere l'astenzionismo Pittella attende la segreteria di lunedì, pur esplicitando il suo ruolo di rappresentante delle istituzioni. La notizia apparsa sull'astenzione del PD io preferisco verificarla. Ci sarà un'occasione prossima che sarà alla direzione nazionale del partito e probabilmente anche su quella. Credo che vi sarà da spendere qualche parola. Io devo traghettare la basicata verso la prospettiva, verso la luce, verso il futuro e lo stiamo facendo, dimostrando di aver invertito in due anni e pochi mesi una rotta anche su questo tema. Non posso diventare un masaniello e affido, o lascio, diciamo non affido, lascio a coloro i quali stanno provando a strumentalizzare un quesito referendario più per ragioni politiche di posizionamento e di visibilità individuale e provare a collocare la regione basicata nell'ambito di un leale, anche se a volte severo, confronto e collaborazione col governo nazionale, tenendo conto innanzitutto delle esigenze di un territorio, del suo sviluppo e della sua sostenibilità ambientale. Questo fa un presidente della regione, non si mette a gridare ai 4-20 slogan che servono solo per guadagnare un posizionamento o 4 voti.